La preghiera più potente della Bibbia è il Salmo 91. Ha la capacità di proteggerti da ogni male. Preghiamo. Chi abita nel riparo dell'Altissimo riposerà all'ombra dell'Onnipotente. Io dico del Signore. Egli è il mio Dio, il mio rifugio, la mia fortezza, e in Lui confiderò. Poiché Egli ti libererà dalla trappola dell'Uccellatore e dalla peste malvagia. Ti coprirà con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua verità sarà il tuo scudo e baluardo. Non temerai il terrore notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che si aggira nell'oscurità, né la distruzione che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco, e diecimila alla tua destra, ma a te non accadrà nulla. Con i tuoi occhi vedrai e osserverai la punizione dei malvagi. Poiché hai fatto del Signore, dell'Altissimo, il tuo rifugio. Nessun male ti accadrà, nessuna piaga si avvicinerà alla tua dimora. Poiché darà ordine ai Suoi angeli di proteggerti in tutti i tuoi passi. Amen.